Salve a tutti amici di YouTube, benvenuti e bentornati sul mio canale, innanzitutto vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e mettere un bel mi piace. Questo video potremmo chiamarlo Chi di ban ferisce, di ban perisce. Sì, perché sappiamo tutti quanti quello che è successo negli ultimi giorni, negli Stati Uniti soprattutto, e che cosa è successo dal punto di vista social alla persona sostanzialmente che ha più potere in assoluto, ovvero il Presidente degli Stati Uniti, uscente, Donald Trump. Donald Trump è stato praticamente estromesso dal mondo social con i suoi profili personali. Facebook ha bloccato il profilo personale fino al 20 di gennaio, data in cui ci sarà la transizione, il cambio di Presidente con il nuovo eletto Joe Biden. Biden è stato sospeso a vita con un profilo da 88 milioni di follower su Twitter. Rimangono attivi ovviamente i profili istituzionali, quelli governativi, legati al Presidente degli Stati Uniti, ma il profilo personale, i profili personali di Donald Trump sono stati chiusi, sospesi o cancellati dalle varie piattaforme. Questo per quale motivo? Ebbene, le piattaforme hanno identificato, soprattutto dopo l'assalto al Campidoglio, che Donald Trump abbia utilizzato i social per incitare all'odio. Questo tema può ricollegarsi a quel video che tempo fa feci in cui dissi libertà non significa fare quel che cavolo pare. E questa ne è stata la dimostrazione. Ora, nelle limitazioni che hanno applicato i social network su cosa poter pubblicare, che cosa non poter pubblicare, sostanzialmente ne erano andate, diciamo, di mezzo, ne avevano pagato le conseguenze legittime, d'accordo, in alcuni casi, in altri no, gente normale, gente con profili normali, che si erano visti bloccare, sospendere i propri profili per incitamento all'odio, condivisione di contenuti discutibili, d'accordo. In questo caso si è dovuto prendere atto che il presidente degli Stati Uniti aveva esagerato, sì, perché quel confine sottile dove è possibile fare e non è possibile fare è stato valicato più di una volta dal presidente degli Stati Uniti, che ha, diciamo, scherzato con il fuoco, perché in quel video io vi dissi, libertà significa poter fare, sì, quello che si vuole, d'accordo, però con la consapevolezza che si deve andare anche in conto a quelle che sono le conseguenze, quindi assunzione di responsabilità. Nel caso di Donald Trump è come se lui avesse gettato un fiammifero e ha acceso un grosso fuoco e poi abbia nascosto tutto, poi si fosse tirato indietro. Per anni ha alimentato polemiche, d'accordo, polemiche veramente sconcertanti, d'accordo, e poi adesso si stupisce se è stato bannato dal mondo social. Vorrei ricordare che quando venne eletto Donald Trump c'era stata una divisione all'interno del governo degli Stati Uniti, nell'ambiente governativo degli Stati Uniti, se lasciare al presidente degli Stati Uniti la possibilità di avere accesso ai social network non con i profili istituzionali, ma con il profilo privato, oltre che per una questione di sicurezza, per una questione di comunicazione, perché se andate a riprendere alcuni tweet, i precedenti tweet sono possibili, è possibile poterli consultare, quelli del profilo che è stato chiuso, d'accordo, se andate a fare un comparativo tra il profilo istituzionale, quello che cura il social media manager della Casa Bianca, e il profilo di Donald Trump, ovviamente notate uno stile comunicativo completamente differente. Questo per quale motivo? Perché persona e personaggio, ma stiamo notando che sempre più persone non riescono a distinguere la persona dal personaggio, però quando sei una tra le persone più importanti al mondo, quindi il presidente degli Stati Uniti, devi saper pesare le parole che utilizzi dal punto di vista comunicativo, sei un comunicatore, un comunicatore sei il comunicatore per eccellenza, quindi ti devi saper dosare. Non l'ha fatto. E dire che, ad esempio, ci sono cariche istituzionali in altri paesi, mi viene da pensare Angela Merkel, la cancelliera tedesca che da oltre dieci anni è a capo dell'esecutivo in Germania, ebbene Angela Merkel non possiede un profilo Facebook o Twitter privato, d'accordo? Comunica attraverso i social esclusivamente tramite quelli che sono i canali istituzionali tedeschi, ma non ha un profilo privato, non ha questa doppia comunicazione. Donald Trump ha utilizzato molto questo modo di comunicare particolarmente aggressivo, il risultato è stato quello che abbiamo visto, qualcosa di veramente sconcertante, e dove non arrivano le istituzioni, ovvero limitare determinati atteggiamenti, comportamenti che appunto hanno portato a odio, a violenza e altro, ci dobbiamo mettere una bella pezza quelle che sono delle aziende private, quindi Facebook, quindi Twitter, sono loro che hanno detto adesso basta, dopo che Donald Trump ha detto adesso basta, ad esempio ad aziende come Huawei, Huawei ha deciso di stringere quelli che sono rapporti commerciali e quindi con altre nazioni, con la sua mentalità American first, applicando dei dazzi che hanno strozzato non tanto l'economia americana, ma i rapporti di import e export con altre nazioni. quindi ha influito non solo sull'economia interna, ma anche su altre economie, più metti dazzi, più applichi restrizioni e più l'economia a livello globale non gira, gira un'economia interna, ma nel 2021-2020, in questo millennio, un mondo fatto di economie ristrette non va avanti, d'accordo? Oramai siamo entrati in un mondo globalizzato. Ritornando alla comunicazione, abbiamo visto che questo tipo di comunicazione non ha funzionato e neanche da parte dei repubblicani, lui è stato eletto grazie allo schieramento repubblicano, si è schierato con i repubblicani, in America sostanzialmente sono democratici e repubblicani, i repubblicani dopo quello che è avvenuto l'assalto a Campidoglio, in sostanza l'hanno scaricato, d'accordo? E un grandissimo repubblicano come Arnold Schwarzenegger, attore, ex governatore della Florida, addirittura è stato nello staff del presidente Bush quando c'è stato da stare all'interno della commissione sport e fitness, lui ne è stato il presidente. È vero che Schwarzenegger è nato in Austria, quindi in Europa, ma è naturalizzato americano da tantissimi anni, da tantissimi decenni e lui ha realizzato un video nel quale prende tantissimo le distanze da Donald Trump, che tecnicamente è il presidente, uscente comunque, dei repubblicani, ma tutto il mondo repubblicano ha preso le distanze da lui. Libertà, libertà significa che cosa? Lo ripetiamo, poter esprimersi liberamente, senza restrizioni, con la consapevolezza della responsabilità a cui si va incontro, ovvero, si è responsabili di quello che si dice e quello che si fa e quelle che sono poi le conseguenze. Non posso dire a una persona che è una persona stupida, che è una persona poco corretta. Sto utilizzando dei termini in modo che non venga applicato un ban da parte di YouTube per aver utilizzato un linguaggio che può essere tollerato e che non deve essere demonetizzato. non posso dire a una persona che ha un comportamento non corretto e poi non assumermi le responsabilità delle conseguenze di questa persona, ovvero, può dire, guarda, che quello non corretto sei tu, non è vero, oppure è vero, oppure dare dello stupido a una persona e non aspettarmi che questa persona possa dare dello stupido a me. quindi quello che dico, quello che faccio nei confronti di qualcun altro che possa essere un singolo, possa essere una comunità, ha un effetto di ritorno. Quindi preoccupiamoci sempre della dinamica, causa ed effetto, perché se facciamo le cose senza poi preoccuparci di quelle che sono le conseguenze, e dire, no, ma io l'ho fatto nel rispetto della libertà di espressione. Certo, la libertà di espressione significa piena, appunto, libertà di esprimersi, ma bisogna assumersi le responsabilità di quello che si dice, quello che si fa e le relative conseguenze. Punto e basta. Donald Trump tutto questo non lo ha fatto. D'accordo? Ha preso, ha acceso odio, polemiche e ha fomentato quella che è stata questa insurrezione e poi non se ne è assunta la responsabilità nel momento in cui ci sono state le conseguenze. Addirittura abbiamo visto delle immagini che ci hanno lasciato tutti quanti sconcertati. D'accordo? E questo è avvenuto in America. Però in questo mondo globalizzato l'America non è più a 12 ore di volo a 10.000 km di distanza. Sostanzialmente gli Stati Uniti sono dietro l'angolo. Tutto il mondo è dietro l'angolo. D'accordo? Quindi ricordatevi che la libertà è quanto di più importante e più prezioso ci possa essere. Ma la libertà deve essere saputa gestire. è un po' come nei commenti di YouTube o i commenti di Facebook. D'accordo? Siete liberi di scrivere quello che volete. Ma sicuramente se scrivete un insulto se scrivete una minaccia se scrivete una volgarità come minimo dovete assumere le conseguenze di quello che avete scritto. d'accordo? Quindi che se voi insultate qualcuno dovete aspettarvi che come minimo questo qualcuno vi risponda a tono. Non potete pensare che passi tutto inosservato. D'accordo? Come anche è sul mio canale tutti quei commenti dove ci sono volgarità minacce insulti e altro la conseguenza più rapida sapete qual è? E che quei commenti non vengono accettati. Io modero i commenti e dove ci sono volgarità minacce insulti no lì pubblico lì cancello gli altri quando scrivete qualche cosa soprattutto di costruttivo anche se non la condivido va benissimo d'accordo? L'importante è che scrivete qualcosa di costruttivo nei commenti ma se dovete scrivere un insulto una minaccia una volgarità non va assolutamente bene perché? Ve l'ho spiegato è la policy dei commenti del mio canale perché non voglio rogne non voglio problemi d'accordo? Punto e basta sapete quanti commenti con minacce volgarità insulti lo ripeto sempre a sottolineare un certo tipo di comportamento ho dovuto cancellare a vario livello su vari video tanti i leoni da tastiera ma io ne conto tantissimi per quale motivo? questo non lo so che cosa? ecco ve lo chiedo concludiamo il video con questa riflessione qual è quella molla che fa scatenare in alcune persone in determinate persone la voglia di prendere di pubblicare un commento un contenuto volgare con insulti con minacce con odio d'accordo? gli ether gli odiatori gli insultatori gli arrabbiati costanti che cosa vi fa nascere tutto il mondo e soprattutto che cosa non vi fa rispettare il pensiero degli altri e poi invocate a voi il rispetto d'accordo? sotto un video mi hanno scritto che io sono un buonista e che sono un covidiota solo perché sostengo le tesi dei vaccini ma scusate da quando? buonista buono è un insulto il contrario di buono è cattivo vogliamo un mondo fatto di cattivi io penso proprio di no io penso proprio di no pensate a un mondo fatto solamente di cattivi buonista buonista da quando? è un insulto io non lo so io vi ringrazio per aver visto questo video che è partito con considerazioni sulla comunicazione e che è arrivato anche a uno sfogo è un po' il quello che è il motivo ricorrente del mio canale d'accordo? è vero io faccio dei video lunghi in alcuni casi mi ripeto d'accordo? però la considerazione è il canale è mio i video sono miei li pubblico sul web sul mio canale possono piacere possono non piacere a chi non piace il canale a chi non piacciono i video può passare oltre e a chi non piacciono i video non è obbligato a lasciare un commento di insulto di volgarità d'accordo? puoi anche scrivere non mi è piaciuto il video per questo questo e quest'altro motivo senza insulti senza niente va benissimo ne prendo atto ne prendo atto però comunque il mio canale non vi è piaciuto il video? passate oltre potete non iscrivervi al canale potete non attivare le notifiche potete non mettere un mi piace potete mettere un non mi piace d'accordo? un non mi piace ma gli insulti volgarità e minaccia? no quindi chi di ban ferisce di ban ferisce caro Donald se vuoi ritornare sui social ritorna un po' ad abbassare un pochettino i toni perché non è stata una strategia comunicativa efficace assolutamente no d'accordo? io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao